Parli te Benvenuti ragazzi in questo nuovo Chiamiamolo non so Funny moment di Call of Duty Ghost dove vi faremo vedere Una partitina Modalità caccia Siamo nella Mappa di Sovereign Snap Sto bene E siamo contro Io farò federazione Mentre l'altro farà ghost Ok cominciamo Io sono quello sotto come vedete Perché devo farlo io ancora Perché lui ti ha fottuto la federazione Andiamo a cercare dei nemici Non sono molto esperto in questo gioco E si vede Stai zitto Io sono un fenomeno Cazzo sto già perdendo tra due Non è possibile Non ho da chi lato uno Due Non li trovo Usa il coltello Usa il coltello Non li trovo Dove sono Trovo solo i miei amici Ora Trovo solo i miei amici Un altro coltello Quattro kill consecutivo Anch'io Eccolo Merda secca Oh ma qua c'è la C'era il covo C'era il covo Come lo kill E c'era il covo C'era una associazione nemica C'era il covo E ritorniamo la sopra Oh dai come lo ho killato Merda ti faccio fuori io Oh no Ce l'hai sulla sinistra No scherzavo Eh no cos'è questa roba Oh pla Un altro kill con il total Ce l'hai davanti sulla sinistra Io No chi l'ha 2 No uno all'altro Continua arrivare gentaglio Con un fucile del genere Si ma devi Di una fucile O è la tra Che fucile ha E' un tipo un mitraglio Eh non mi veniva Dai cazzo un po' Qualcuno Eccolo no mio amico Non c'è un casazzo io Abbassati 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 Ma va destra a sinistra Va devi andare destra a sinistra Eccolo Lascia stare amico Lascialo stare dove sei Dove cazzo è finito Ce l'hai dietro la schiena Eccolo Merda Chi che vuoi fucile a pompa Ero anche nel punto delle armi Non è possibile dai Opla Partita equilibrata 17 e 16 17 No 15 15 Fiesta Forever Dai Uh c'erano delle armi Per terra Infatti C'è l'hai Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì No non usare il mirino Uso il normale Uso il normale No fai fattile Devo scappare Devo scappare Devo scappare Ho chiesto Mi ne ho uccidati Faccio alcuno Ma non trovo nessuno L'ho fatto fuori solo uno Una cosa scandalosa Opla Io col coltello Ce l'hai dietro? Eccolo eccolo No dai qualcuno Ma devi andare dove ci sono i punti di ripristino delle armi Dice a qualcuno E lo so ma non c'è adesso Non c'è niente Ma dove c'è tipo la squadra nemica La base della squadra Delle armi della squadra nemica Eccolo Si è apparso un coso delle armi Fai il punto Eccolo 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 Lasciatare il mio amico Opla Ora me la paghi Cazzo No vaffanculo Pezzo di merda Mi hai salvato le chiave Poi è morto lo stesso Cule Ce l'hai davanti E l'ho visto Oh yeah baby Ne vatti dal cazzo Ma ne vatti Sei un tolco di merda Oh merda Dov'è? Oh io me ne vado da qua Dov'è lanciare il mio amico Eccolo lì 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 Oh zucca Siamo pari Incredibile risultato Ma non corre Mi sta andando in crancreena al dito No ma perché dopo un po' C'è l'ho sparata la mano Avete visto Ma cosa ti mi hai Da quale distante Oh cazzo Qua ce n'è uno però Non so dove sia Andiamoci una lavata Forest Forest All'attacco Ci prende sulla mano Ma non c'è nessuno Non c'è nessuno Lo fa secco Si invece Non dirlo No Pesto di merda Come questo sotto Fa un culo Pocco di merda Ho una bella Mitraglietta Ragazzi aspettiamoli tutto Non ci faccio Eccolo Hai spavolato in quel punto La vita Ah si No dove cazzo sei Tia E ti ha rompato l'arma Dove cazzo sei Che voglio quel bazooka lì Che ho visto Non è un bazooka Ah quello è un bazooka Dai qualcuno Finca solo per spararli in bocca Guarda che puoi decidere anche i tuoi amici No No che figata Dai un bazooka lì faccio Bazooka lì faccio Dai non è possibile Non è possibile È fatto di titanio Ma semplicemente l'ha schivato perché stavi sparando No semplicemente C'è una mira Madonna Vaffa un culo Sotto attacco Munizio Ecco mio amico Oh cazzo io Lo so E io avevo la pistola Dai Hai una cosa uscena Oh ci vengono tre in questo punto Vaffa un culo È una cosa uscena Dai avere la pistola Armi armi Prendimono decente No fa cagare la mia No cos'è È un fuggile Adesso arriverà uno come al solito E ti ucciderà Come al solito Come sto vincendo io Oh merda Te te Così Così Ricordo che ho ucciso anche tu Così Forrest Attenzione Oplà Eri te Sì No E scarico Te Zucca E gli ruba la pistola Dove sei Così Doppio Ho paura Ho paura Come io prima Ho paura No ho solo una pistola Con quattro colpi Eccolo Eccolo Ah ma seccato Con fucile a pompa No non vedi alla mia morte È una cosa Fusce Oh fico cos'è questo Fucile a pompa È quello che hai scartato prima Davvero Sì Inse no Non vedo nessuno Eccoli Eccoli Merde Secche Che figa Che merda Il cazzo Oh tu 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 Sei qua tu eh Sei qua tu eh No Non ho più munizione Non ho più munizione Sì Non ho più munizioni E figa Ne sprecate solo tre Per accedere quello là Eh ma magari Magari era ancora vivo E guarda come lo ho prenduto dietro Opla Ah 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 Famicolo Hai ucciso il nemico eh Pezzo di merda Non hai più armi Ma sono tutti amici E cappie Perché Un nemico là C'è un nemico C'è un nemico C'è un nemico Ah Si Sat Satanico Oh guarda che bella fucile Ha un MC14 C'è scritto sotto Spento 52,45 per Mattia come lo secco come ti ha seccato tutte balle come il Tio non ha il coraggio di ammazzarci da davanti che che il mona e ora gli succo anche la pistola dove sei il cap cerca la stessa uccisione di Mattia ma fallisce io sto scappando e tu mi stai seguendo no io non ero sulle scale io stavo scendendo dalle scale io stavo scendendo eccolo vattene 61 ma con 2 uccisioni avete vinto l'ultima deve essere la mia è obbligato oh madonna che bestia che ho eh credo che ho una K42 boh no credo di boh dai non fa figura di merda taci io non mi ricordo non ho letto non ho letto vabbè vabbè ti ho accorto adesso che sto vincendo dopo la caduta è andato in sciocco a una fila dai qualcuno dai non è possibile mi sto oh ne manca uno devo farlo io l'ultima kill manca una kill manca una kill no chi è che l'ha fatto ti sta oh ti ha io credo che ti stavo bersagliando e vince io ti stavo bersagliando con la federazione ecco i più forti non è vero oh che boh il gioco si chiama Ghost o Federazione Ghost o Federazione? Ghost o Federazione non è più forte 18 Ghost con un risultato incredibile di 13 no no 18 Federazione in C bene ragazzi come vedete la classifica ho vinto io vabbè però ho vinto noi vi salutiamo per questo episodio è tutto lasciate commenti mi piace scrivetevi come al solito bella raga tui giochi mi sape